Io sono Domenico Gambacorta, sono presidente della provincia di Avellino e dal febbraio del 2015 sono componente del Comitato delle Regioni e della Delegazione Italiana del Partito Popolare Europeo. Nella mia regione il problema principale è la gravissima disoccupazione giovanile. Credo che la soluzione sia puntare molto sull'istruzione e sulla formazione anche per superare il divario che abbiamo rispetto ad altre regioni d'Italia e d'Europa. È molto importante in qualche modo garantire il collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro anche attraverso tirocini formativi, attraverso programmi come Garanzia Giovani che stanno avendo un buon successo anche in Italia. C'è un'importante iniziativa che stanno portando avanti l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, la più importante Università del Mezzogiorno d'Italia, e la Apple che si chiama Developer Academy che è orientata alla formazione di giovani sia nel settore dello sviluppo software sia nel settore della creazione di nuove start-up. Sono centinaia i giovani che da tutta Italia e da tutta Europa stanno venendo a Napoli per seguire questi corsi e frequentare addirittura parti di tirocinio negli Stati Uniti.